Nel 2000 Peugeot in occasione del concorso internazionale della progettazione online lanciò 4 mini concept, 4 provocazioni sotto l'aspetto del design, delle misure e della mobilità, 4 city toys, le doll, il cart up, il bobslide e il broomster. Visioni dell'utilitaria del futuro divertenti da guidare come un gioco fondamentali per spostarsi in mezzo al traffico cittadino.